Guarda Luca, io leggo quello che c'è scritto in alto, bentornato orgoglio italiano, io aggiungerei una parola, bentornata coerenza italiana indipendentemente da dove ci troviamo e da dove parliamo. E penso che un grande applauso, permettetemelo, dovrebbe essere fatto a Giorgia Meloni perché quando va alla COP28 davanti a tutti i leader mondiali e ha la forza, l'orgoglio, la coerenza di difendere un provvedimento di carattere legislativo che vede l'Italia come primo paese al mondo a vietare la produzione, la commercializzazione di prodotti fatti in laboratorio ma non la ricerca come qualcuno voleva far credere, Io penso che questo sia un grande scatto di orgoglio che ci pone in costruzione di rapporti con altri paesi e non a caso oggi la Francia inizia a dire vogliamo copiare la legge italiana e non a caso gli austriaci iniziano a dire ragioniamo con gli italiani per fare la stessa cosa, non a caso il principato di Monaco dice che andrà a vietare i prodotti fatti in laboratorio Allora eravamo noi che eravamo fuori dal mondo o non ci siamo piegati a quelle logiche speculative commerciali che avrebbero voluto cancellare la nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, tutto ciò che ci appartiene E arrivo Luca a quello che tu mi dicevi, noi abbiamo e ci siamo battuti in un periodo storico in cui tutti volevano omologare i sistemi produttivi E ci dicevano che l'unica alternativa per poter produrre erano gli organismi geneticamente modificati Se noi avessimo introdotto gli organismi geneticamente modificati oggi non parleremmo più di distintività, non parleremmo più di biodiversità, non parleremmo più di un'agricoltura italiana E anche di tutta la filiera agroalimentare che il mondo ci invidia Allora serve lungimiranza, mi ripeto, non piegarsi alle logiche economiche speculative e commerciali di poche persone che ci vorrebbero condizionare rispetto a quello che andiamo a fare Noi abbiamo un'identità che vogliamo proteggere che è quella dei nostri agricoltori, che è quella della nostra biodiversità come dicevo prima Che è legata ai vitigni autoctoni che sono quelli che tutto il mondo ci invidia Pensate, l'Italia ha più di 500 vitigni autoctoni, la Francia ne ha la metà rispetto a noi, gli spagnoli ne hanno un quinto rispetto a noi Su questo noi valorizziamo l'agricoltura, ma valorizziamo anche il turismo, ma valorizziamo anche il territorio